Dopo il tafferuglio tra l'attaccante Borrelli e il difensore De Giorgi, la battipagliese rompe il silenzio e annuncia il richiamo ai due calciatori, entrambi multati per il comportamento poco disciplinare mostrato durante la seduta di martedì pomeriggio. A distanza di poche ore sono arrivate anche le scuse dell'attaccante bianconero su Facebook, ma intanto il tecnico Pasquale Santosuosso ha provato negli allenamenti per il match di domenica con il Solofra due nuovi elementi che a breve potrebbero entrare ufficialmente nella squadra bianconera. Si tratta di Marco Adiletta, centrocampista classe 1996, ex Agropoli e Nocerina e Antonio Donnarumma, difensore classe 98 ex Agropoli.